Io questa sera voglio iniziare da questo, da un applauso, da un applauso, perché io credo che questi ragazzi ci meritino, ci meritino un applauso. Allora io stasera ho apprezzato la Juventus, ma stasera ho apprezzato l'atteggiamento, mi è piaciuto l'atteggiamento, credo che sia stata una delle partite più belle ed emozionanti della Juventus di quest'anno e credo che il risultato sia abbastanza bugiardo per quella che è stata la prestazione e quello che ha messo dentro la Juventus questa partita. Purtroppo stasera davvero ci siamo purtroppo fatti dei gol da soli e non mi va giù, perché ci sono stati troppi errori individuali stasera. Ma allo stesso tempo purtroppo lo comprendo, lo comprendo perché stavano giocando contro una squadra, l'Atalanta, che è uno stato di forma fisica quasi allucinante, quasi impossibile da arginare. L'Atalanta in questo momento sta bene, l'Atalanta fa gol, l'Atalanta è una squadra che rende. E noi venivamo da una massata tra capo e collo, tra il 5-1 di Napoli e i 15 punti di penalizzazione, che avrebbe steso chiunque un elefante, probabilmente anche, inizia la partita e c'è l'errore di Locatelli e la papera di Scesni e sei già sotto dopo 4 minuti. Però questa partita l'è preparata in maniera diversa. Questa partita l'ha giocata allo stadio, questa sera non pieno ma più caldo, almeno questa è la mia percezione da casa, di aver visto e sentito uno stadion più caldo, con un pubblico più caldo, più voglioso, che guidava la squadra verso la vittoria, perché se l'Atalanta all'ultimo secondo deve spazzare via il pallone per l'assedio della Juve, perché la Juve ci crede. Poi la forza di ritornare su, probabilmente con anche un calcio di rigore che non ti ha infischiato su Milik, con la giocata di Di Maria. Ed è quel primo tempo, lo chiudi in vantaggio, ed è la sensazione di essere la squadra che sta dominando la partita, magari non tanto dal punto di vista delle occasioni da gol, quanto più sull'atteggiamento, sulla grenta, sul palleggio, su tutto quello che si mette dentro una gara. Io aggiungo sul cuore, sul cuore. E' mancata tante volte questa dimostrazione di forza della Juventus dentro al campo da parte dei calciatori, dei tifosi e dell'allenatore. Perché stasera ci sono state queste tre componenti diverse dal solito. Perché l'allenatore l'ha giocata per vincere, chiamava il pressing alto, continuava a chiedere di andare, di attaccare, di pressare i giocatori e avversari, di alzarsi, non di calmarsi, di arretrare. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo difeso Bassi, dei momenti in cui boccapeggiavamo, ma ci mancherebbe altro. Non esiste una squadra che non si difende mai. Ci sono stati dei momenti, ma sono stati dei micro-momenti. Non siamo più stati a tendeisti passivi, Bassi, ad aspettare. Ci sono stati una squadra che andava a pressare, più di una volta addirittura sul portiere, Locatelli sul portiere, Di Maria sul portiere, Milik sul portiere. Bell'atteggiamento della Juve. Bella gara preparata da Allegri. Bello. Mi è piaciuto. È stata probabilmente la partita nel complesso che mi ha dato più sensazioni positive da parte della Juve. Poi gli errori ci stanno, ragazzi. Gli errori ci stanno. Ma io sono convinto che se approcci le gare, tutte, come le approcciate stasera, con la voglia che hai messo in campo stasera e portare a casa il risultato, magari perché ti avevano tolto qualcosa che avevi conquistato e ti rimeritato, se approcci le partite in questo modo, difficilmente le perdi. Difficilmente. Perché non ci sono tutte le serie che fai questi errori. Perché questa squadra queste cose le sa fare. Ce le ha dentro di sé. Addirittura, aggiungo, ce le ha nelle corde di tanti giocatori. L'allenatore, secondo me, l'ha preparata bene. I giocatori l'ha interpretata bene. Poi ci sono gli errori. Perché poi, ritorno in campo dopo il primo tempo, sei in vantaggio e dopo 40 secondi prendi gol perché Danilo la sbaglia. Sbaglia il pallone in uscita. Succede. E poi, purtroppo, lo teniamo in gioco. Per millimetri, mele. Purtroppo. Purtroppo così. Così come dopo 5 minuti, purtroppo, ancora una volta. 10 minuti, quelli che sono 7-8, purtroppo, ancora una volta. Alessandro non mi salta su Lukman. Lo lascia saltare in area. Che cosa vi devo dire, ragazzi? Che cosa vi devo dire? Però la partita, la Juventus l'ha provato a farla. L'emozione ha provato a mettercela. Il cuore ce l'ha messo. La Juventus stasera in campo ha trasmesso qualcosa. Almeno a me, magari sono un caso isolato, non lo so. A me ha trasmesso la Juventus stasera qualcosa. Mi ha dato l'idea di essere una squadra che sapeva cosa voleva fare, che cosa doveva fare. Quando c'è il pallone tra i piedi sappiamo cosa dobbiamo fare. Poi ci difendiamo, ma succede, ma quello lo fanno tutte le squadre. A me la Juventus stasera è piaciuta. La Juventus stasera non meritava di perdere. Si è fatta tre gol da soli. Atalanta credo che abbia fatto quattro. Quattro tiri in porta, forse cinque, non lo so. Poi vedremo all'interno dell'analisi della partita domani. Però poi cosa succede? Che tu c'hai la forza anche di andare a pareggiarla sta partita. E la pareggia è il simbolo di questa Juventus. L'uomo che aveva fatto l'errore poi dispiace, perché i primi due gol Scesni fa la cappella, che è la prima dell'anno, la prima pappera dell'anno. Il portiere può sbagliare, ragazzi, purtroppo succede. Quest'anno Scesni aveva tenuto un livello, un ritmo altissimo, secondo me, di standard, qualitativo. Purtroppo l'ha sbagliata. Succede. Danilo sbaglia quel pallone, succede. E che anche lui è un trascinatore. Poi te la pareggia, fa il 3-3. Fa il 3-3. Rode il culo. Rode il culo perché hai avuto la palla del 4-3 limpida, chiara, fantastica, facile anche, facile. E si aggiunge un altro errore che è quello di Miretti. Purtroppo, ahimè, sarebbe stato un sogno vincerla. 4-3 col ragazzo di 19 anni che ti viene su dalle giovanili che da un anno che provi a cullare, a far crescere. Sarebbe stato clamoroso, sarebbe stato stupendo. Un finale magnifico. Purtroppo in questo momento probabilmente ci manca ancora quel qualcosa. Ragazzi, io mai avrei pensato di vedere una Juve di questo tipo stasera. Mai avrei pensato di vedere una Juve che se la giocava a viso aperto, uomo su uomo, a tutto campo, in pressing contro l'Atalanta. Che l'Atalanta ha questi ritmi, probabilmente perché se non giochi i ritmi dell'Atalanta fai fatica, fai fatica. Ma l'hai messa in seria difficoltà l'Atalanta. Atalanta è una squadra che del ritmo, del pressing, della corsa, della fisicità fa il suo marchio di fabbrica. Stasera sembravi tu, sembravi tu la squadra con quelle caratteristiche. E probabilmente perché sei una squadra con quelle caratteristiche. Allora, a me piacerebbe che questo possa essere un punto di ripartenza, una nuova dirigenza. Quindi, idee magari diverse dal solito. L'allenatore che applica una nuova filosofia, i calciatori che rinascono all'interno delle loro caratteristiche, che vengano esaltate da questo tipo di calcio, e i tifosi che finalmente si riuniscono in un tutt'uno con la squadra, allo stadio e da casa. Piacerebbe potervi raccontare questa favola. Ma questo non posso sapere se accadrà davvero. Questo è un sogno, questo è il mio sogno. Ve lo sto raccontando a cuore aperto. È il mio sogno. Succederà o non succederà? Ci vedrà le prossime partite. Io difficilmente sono qui a dirvi credo che sarà la partita della svolta e che tutte le partite Allegri le approccerà, le preparerà così. Però io sono fortemente convinto che questa squadra necessiti questo tipo di gare. Perché stasera non l'hai vinta. E va bene, succede. L'anno scorso con l'Inter non l'hai vinta. E va bene, succede. Ma se tu queste partite me le fai una volta ogni tanto, la squadra mai si abituerà. Non ci riuscirà mai a farlo suo, questo modo di approcciare la gara. Ma la squadra queste cose le sa fare. I calciatori queste cose le sanno fare. Poi permettetemi un piccolo cappello, un plauso, alla serata di Di Maria, alla tecnica di Di Maria, alla qualità di Di Maria, a quello che fa Di Maria con il pallone tra i piedi. Perché io da sempre che vi dico che i numeri 10 fantasisti, i giocatori tecnici, quelli che hanno la fantasia, io mi sciolgo come neve al sole. Io non ce la faccio più forte di me. È troppo bello per me vedere giocare quei giocatori. Soprattutto quando sono inserati, ispirati. Troppo bello. Troppo bello. Per me è proprio... Quei giocatori lì sono il mio pane. Me li mangerei così come i crostini. E poi permettetemi perché il gol di Milik è bellissimo in tutto, in tutto e per tutto. Nal tacco di Di Maria, a fagioli che si butta nello spazio, al controbalzo, al controbalzo magnifico di Milik, di destro il piede debole. Bellissimo. Io stasera ho visto una squadra. Io stasera, per la prima volta in stagione, ho visto quello che dovrebbe essere la Juventus. Esagero o non esagero? Non lo so. Non so se è perché mi voglio illudere che ci sia stato qualcosa di diverso come reazione, ma siccome c'è stato. Siccome c'è stato. Io stasera ho visto una squadra. Una squadra che non aveva paura dell'avversario. Una squadra che sapeva di avere le caratteristiche, le potenzialità per portare a casa un risultato. Una squadra che questa partita non l'ha vinta, ma che in campo meritava assolutamente la vittoria. Una squadra che voleva portarsi a casa un piccolo pezzettino di quello che gli è stato tolto. Io ho visto questo. Voi? Cosa avete visto? Fatelo sapere qui sotto nei commenti. Io stasera sono soddisfatto. In questo momento vi dico la verità. 3-1-0 punti. È ovvio che preferisco la vittoria, perché c'è un tolto 15. Però è davvero il mio desiderio, più che il risultato, ora come ora. Perché onestamente ve lo dico, raggiungere la zona Champions sarà molto difficile, anche perché non credo che sia finita qui. Non credo che sia finita qui. Quindi vediamo. Ma mi interesserebbe di più vedere veramente questo atteggiamento, questo cambio di atteggiamento, perché troppe volte si è sembrati una squadra che aveva paura. Non rispetto agli avversari, paura degli avversari. Non possiamo essere questo, perché sia la Juventus. Un'altra immagine che mi è piaciuta tantissimo stasera è vedere Allegri che al gol di Danilo esulta, come se avesse fatto gol lui. Queste cose voglio vedere. Che la Juventus, intesa come squadra, società, dirigenza, quello che volete, torni un tutt'uno. Perché ci sono delle fratture da anni insanabili. Io sono convinto, sono davvero convinto, che se riuscissimo ad applicare quello che abbiamo visto stasera a tutte le partite, non ci sarebbero problemi. Da nessuna parte. Da nessuna parte. Nella tifoseria, nell'ambiente. Da nessuna parte. Ma la Juventus stasera è piaciuta.